In un mondo di supereroi invincibili, quelli che non vengono mai colpiti nemmeno da una pioggia di proiettili, c'è chi invece se ne infischia e decide di fare della morte una fedele compagna. Krilin. Sarà che quando impari la tecnica poi ti affezioni, non lo so. Krilin è una specie di mini mastrolindo, di cui anche il sottoscritto potrebbe fare tranquillamente il cosplay, va che bello, pure la stessa maglia arancione e quadratoni sullo sfondo. Il nome è un gioco di parole, bisogna conoscere il giapponese, io non lo so, ma ho internet e pago ogni anno il sostegno a wikipedia, quindi la uso. Allora, il nome è una specie di crasi tra castagna, che in giapponese è curi per via della forma della testa, e shorin, che a sua volta deriva dal cinese shaolin, il monaco per via dell'aspetto. Insomma, in Italia avrebbero potuto chiamarlo castagnin, oppure marronlin. C'è andata bene che si sono limitati a togliere semplicemente la n. Tutti a parlare di mille modi in cui è passato miglior vita Krilin, a volte con un calcio in testa, altre volte esplodendo letteralmente. Ma c'è una scena in cui ufficialmente non ci lascia le penne, ma che rappresenta al meglio il momento di estrema passione, nel senso di patimento, che il nostro eroe è dovuto subire. Lo chiameremo l'incornata di Freezer. Freezer è uno dei villain più sadici, se non il più sadico in assoluto della saga, e con Krilin mette in mostra una serie di malvagità e crudeltà che annetta al confronto sembra un tenero batuffolino di dolcezza. In una battaglia tipo Freezer contro tutti, l'agghiacciante malvagio con vistoso rossetto si lancia contro il nostro malcapitato e lo trafigge con uno dei due corni. Già qui diciamo che non è il modo canonico per curare un appendicite, tanto più che Krilin non aveva questa patologia. E già si nota la prima perversione, leccare il sangue che copioso inizia a scendere dal corpo dell'Eylander in salsa Toriyama, ampie leccate che Dio solo sa il disgusto, con ghigno satanico e occhio crudele. E mentre tutti stanno lì con l'espressione clisteria a sorpresa, ecchio che Freezer inizia a spingere il corno ancora più a fondo con Krilin che urla con un'apertura mandibolare tipo attacco dei giganti. Inizialmente cerca di colpire inutilmente con un calcio Freezer che poi si sbarazza pure di Gohan che tenta di aiutare l'amico per poi iniziare a fare una delle cose più raccapriccianti. Freezer inizia a ballonzolare in modo da conficcare sempre più in profondità il corno stantuffando il povero Krilin con il sangue che schizza dappertutto e finisce sugli attoniti amici di sotto, salvo poi sbarazzarsene lanciandoli in mare. Ovviamente la scena fu pesantemente censurata in Italia. Eppure alla fine qui Krilin si salva, ressuscitato dal namecciano Dende e quando sembra poter tirare finalmente un sospiro di sollievo, ecco che esplode e schiatta. Ma non prima di lasciarci un insegnamento. Quando ci lamentiamo per il taglietto sul dito provocato dalla carta, pensiamo a sto poraccio che muore ventordici volte e quando non muore soffre come un cane senza nemmeno avere il conforto di avere, che so, un naso ad esempio. Insomma, grazie Krilin, anzi Castaglin. Guarda, col nome ti è andata benissimo in Italia, guarda, fai un quadro alla madonna.